Brucia la montagna di Celestino V, il morrone in fiamme da alcune ore, Sinistra Italiana aveva denunciato in passato come probabilmente fosse sbagliata la cancellazione del corpo forestale dello Stato, ma voi denunciate anche incuria e probabilmente scarsa prevenzione. Il problema purtroppo va insieme, nel senso che nel momento in cui la Madia va a sopprimere un corpo che si è sempre occupato di fare anche prevenzione e controllo, ci troviamo in una situazione allucinante in cui l'Abruzzo da mesi sta bruciando e si continuano a verificare ritardi, difficoltà e l'incuria evidentemente attecchisce perché è evidente che se una persona oggi sa di poter delinquere purtroppo, perché i ritardi poi sono ormai cronici sugli interventi, il problema di dire che non ci sono i fondi nella regione non è questo il punto, i soldi ci sono anche, il problema è che strategicamente non andava soppresso il corpo, noi abbiamo fatto una grande battaglia nel Parlamento, ci siamo opposti dicendo che poi i risultati sarebbero stati esattamente questi, un depotenziamento di un servizio fondamentale che è legato a quello della tutela dei beni comuni, che è un volano per il turismo oltre che un patrimonio che è di tutti e che va tutelato, queste due cose non si sono verificate, hanno fatto una riforma a metà, hanno chiuso un corpo, l'hanno accorpato e hanno messo negli sgabuzzini, negli scantinati i mezzi di soccorso che oggi sono fermi, abbiamo delegato i pompieri che non ce la fanno per tante persone, noi stiamo dando la solidarietà perché ci sono persone che stanno rischiando la vita per spegnere questi incendi. Tra l'altro tutto questo in un'estate che purtroppo per l'Abruzzo è stata un'estate record sul fronte degli incendi. Tre mesi senza acqua, incendi che si sono susseguiti nell'Aquera, nel Pescarese, nel Terramano, nel Chietino, ovunque, come la tragedia che abbiamo vissuto a Rigopiano, io penso che purtroppo non si possa lamentare semplicemente, come spesso sento anche in giro, che ci sia una delinquenza forte. La delinquenza c'è, anche prima c'era, però oggi ha più spazio per poter purtroppo fare quei danni che sta facendo e allora puniamo chi fa questi atti ma soprattutto rimettiamo in piedi il corpo e aumentiamo la prevenzione.